Sono 6 su 14 presentati i progetti vincitori della seconda edizione dell'iniziativa di decoro urbano all'interno del progetto Prato, finanziata dalla Regione Toscana con 40.000 euro. Progetti che investono sia i problemi del degrado spaziale della città che quelli legati all'integrazione. La parte del centro storico è legata vicino a Via del Serraglio, alle zone limitrofe, la parte del soccorso e poi tutta la parte relativa alla zona dei giardini di Via Marx e dei giardini di Sant'Orsola. 5 riguardano proprio la città di Prato e sono ubicati in vari quartieri, in particolare in quelle zone in cui le criticità sono più sentite. All'interno di questi 5 progetti ci sono tantissime azioni, molto diversificate tra loro, che appunto vanno da azioni di tipo teatrale, quindi coinvolgimento dai bambini agli adulti su spettacoli teatrali, ad azioni e interventi di rivitalizzazione sociale del quartiere, quindi corsi di fotografia, interventi che cercano di riqualificare anche da un punto di vista proprio del decoro urbano quelle zone, quindi orti sociali. Per esempio attraverso l'utilizzo di materiale riciclato, coinvolgere cittadinanza con disagio sociale. Uno dei progetti è invece di Montemurlo e mira a coinvolgere cittadinanza e immigrati nei progetti culturali del Festival Young Station. Perché è fondamentale oggi far capire ai nostri cittadini la storia di chi è oggi ospite nei nostri territori, per far sì che i salvini di turno non ci marci.